La salute non si vende, la salute si difende! No misure di contenzione, si cure e prevenzione! Non chiediamo il sostituto, la corruzione e poi pretendono che ci curiamo con i nostri soldi, non un soldo all'evasione, ma i soldi vanno in sanità! Una notizia triste, qui alla mia sinistra ieri c'è stato l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, è da tempo che anche come Covesap stiamo denunciando quello che non si può accettare, uscire la mattina per andare al lavoro e invece non tornare più a casa. Stigmatizziamo subito questo ennesimo episodio e purtroppo a volte le parole diventano parole. Grazie. Sulla indipendenza ad esempio, qua, ricordiamolo, sui Sard hanno bisogno di investimento, la psichiatria manca di investimenti, di superessere universale, è un diritto universale! Belmont, esigeramente credito più. Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. La salute è un diritto. La sanità pubblica non è identica, no la commercializzazione della salute. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. finalmente ascoltati. La garanzia della cura nel servizio socio-sanitario pubblico in tutto il Paese e a livello regionale, affinché tutti possano avere garantiti LEA e LEPS, soprattutto per chi è povero e maggiormente fragile. Basta liste d'attesa. Questo metodo insopportabile e discriminante, per cui chi ha soldi va a cularsi dal privato e chi non ne ha muore deve finire, punto. Non si ritorna su questo. Per quale motivo dovremmo ingrassare i privati? Quando le nostre buste paga, le nostre pensioni sono già sufficientemente tassate alla fonte più raggiunta dei tickets? Qualcuno una volta per tutte ce lo vuole spiegare? Rivendichiamo politiche serie di prevenzione e di sicurezza nel lavoro, dove ogni giorno purtroppo è un bollettino di guerra nella vita e nell'ambiente. Riorganizzazione della formazione e valorizzazione delle competenze di chi opera nella sanità, nella sanità pubblica. Un piano di assunzioni straordinario, avvolendo i tetti di spesa per il personale e i limiti di accesso alle specializzazioni, prevedendo compensi economici adeguati e dignitosi. Ci servono ospedali di comunità e strutture riabilitative pubbliche, gratuite, senza quota di compartecipazione. Non ci servono costruzioni vuote o cattedrali nel deserto, fatte sempre e comunque in project financing. Sono inutili e costose se non vi è il personale poi a farle funzionare. Chiediamo che i tempi di attesa per visite ed esami diagnostici siano accettabili nelle strutture pubbliche, servizi territoriali per le disabilità, la salute mentale, le dipendenze, una valida sanità di genere e una rete di consultori e di centri antiviolenza. Il giusto numero di medici di base, pediatri, medici di continuità, assistenziale, che sia semplicemente, ma dico semplicemente, adeguato alla popolazione residente, senza costringere i cittadini, anziani e disabili a migrare da un posto all'altro per trovare un medico di medicina generale. La possibilità di accesso alle RSA e ai centri diurni per tutti, in particolare per i meno abbienti, esclusi da rette inaccettabili. Ed infine, un nuovo, diverso sistema di coordinamento di tutte le strutture in ambito sanitario e sociale. Distretti, ATS e piani di zona devono diventare il fulcro per garantire un'effettiva integrazione socio-sanitaria. Concludo con questo pensiero di Gino Strada, che in fatto di sanità ne sapeva qualcosa, e che riassume in poche ride un concetto ampio, un'idea altra di come dovrebbe essere governata e gestita una vera sanità pubblica. Diceva Gino Strada, se dovessi fare il ministro, reintrodurrei la dicitura al Ministero della Sanità pubblica. Con me non ci sarebbero convenzioni con i privati, non un euro. Io sono per una sanità pubblica di alta qualità e totalmente gratuita. Per ricostruirla non servirebbero neppure altri investimenti. Basterebbe smettere semplicemente di rubare. Almeno 30 miliardi l'anno finiscono in profitti. quando una struttura sanitaria, che dovrebbe essere ospitale con chi soffre, diventa un'azienda in cui si gioca con i rimborsi e il pagamento a prestazione, si commette un atto di criminalità sociale. Questo diceva Gino Strada e con questo concludo. Un saluto a tutti e buona lotta e buon lavoro a tutti noi. Io inviterei gli ospiti ad essere brevi. Do due notizie. La prima, alle ore 17.30 a San Leonardo, a Venezia, c'è un'assemblea indetta dal Comitato No Grandi Navi. La seconda, sabato 20 aprile, alle ore 15.00 al Teatro Colbe, a Mestre, ci sarà una iniziativa promossa da più associazioni, compreso il Covesap, sui diritti degli anziani e sulla non autosufficienza. Inviterei Cristiano Samuele, medico di medicina generale. Buon pomeriggio, Mestre! E' di fondamentale importanza ricordare che l'articolo 32 della Costituzione italiana recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ricordando che in Italia sono in povertà assoluta, secondo l'Istat, oltre 1.900.000 famiglie, ovvero 5.500.000 persone, si pone un importante problema legato all'equità sociale e sanitaria di accesso al sistema sanitario nazionale. Perché ci sono disuguaglianze che ci evidenziano nel fatto che nel 2021 la spesa sanitaria pro capite mensile delle famiglie residenti in Italia è stata di 62 euro, mentre nelle famiglie in povertà assoluta la corrispondente spesa sanitaria ha raggiunto i 10 euro mensili, evidenziando il tema della povertà sanitaria. Se l'importanza all'interno del sistema sanitario nazionale, della medicina del territorio e in specifico della medicina del famiglia risiede nel fatto che è il punto di riferimento per affrontare in prima istanza la domanda di salute che proviene dalla popolazione, essa diviene ancora più fondamentale perché riesce a raggiungere anche le persone più vulnerabili, che altrimenti rimarrebbero invisibili e non in grado di affrontare in modo efficace i propri problemi di salute. Diventa quindi essenziale che si continui a mettere in atto quanto scritto nel piano socio-sanitario regionale Veneto 2019-2023, quando si dice che la prevenzione della malattia e il trattamento della sua cronicizzazione sono le vocazioni primarie della rete dei servizi territoriali e l'assistenza primaria costituisce il contatto più immediato e frequente per l'assistito. Purtroppo però nel 2023 in Veneto c'erano 2660 medici di medicina generale, con una diminuzione di quasi 200 medici di medicina generale rispetto a due anni prima. E questo senza dimenticare che in termini percentuali i medici sotto i 55 anni sono il 37% del totale dei medici di assistenza primaria, mentre gli over 55 sono oltre il 62% dei medici di medicina generale nella regione Veneto. Stando così le cose, entro il 2035, quindi fra poco più di dieci anni, andranno in pensione in Veneto 2.296 medici di medicina generale, portando a un ricambio generazionale completo. Su questo trend ha influito e sta influendo da una parte il periodo del Covid, che ha visto un aumento importante dei carichi di lavoro dei medici di medicina generale, che hanno comunque fatto la propria parte in un momento di emergenza, ma che inevitabilmente ha avuto come risultato l'aumento dello stress lavorativo e dall'altra parte l'aumento del carico burocratico amministrativo che allontana i giovani da questa professione. Bisogna quindi intervenire con politiche sanitarie pubbliche, mirate rafforzando le cure primarie, i servizi territoriali e la medicina generale, per affrontare nei luoghi prossimi alla popolazione i suoi bisogni socioassistenziali, sempre più complessi e legati anche all'invecchiamento sempre più avanzato. In questo senso diventa una fondamentale spinta al rinnovamento del sistema sanitario nazionale il nuovo accordo collettivo nazionale che può dare energia al sistema sanità. Bisogna assicurare a tutte le famiglie venete la copertura minima di un medico di medicina generale. Grazie. Mi sentite? Allora, buongiorno a tutti. Io ho solo da fare un piccolo invito. Io parlo in rappresentanza di un piccolo comitato per la difesa della sanità pubblica dell'alta marca trevigiana. Da noi stiamo perdendo due ospedali, però si posa la prima prieta di un nuovo ospedale, gusci vuoti perché non ci sono medici, i servizi saltano, i reparti chiudono. Allora è la voce dei territori qua perché questa politica sanitaria colpisce soprattutto la provincia dove ci sono sempre meno servizi pubblici e dove pullolano sempre di più invece offerte di strutture private, a volte convenzionate, a volte invece a pagamento. Allora noi abbiamo da invitarvi al 27 di aprile, sabato 27 di aprile, al Palafender di Vittorio Veneto, facciamo un convegno dove ci sarà Ivan Cavicchi, la Nicoletta Dentico che è stata anche con Medici Senza Frontiere, un giornalista di Report. Sarà un momento importante per approfondire e far capire il quadro perché è quello che succede, molti cittadini hanno l'impressione che siano incidenti di percorso, che siano problemi organizzativi. Non è così, non è così, c'è una visione che è ideologica, che vuole abbattere la sanità pubblica e aspetta a noi, siamo noi che dobbiamo reagire, amici, dobbiamo spingere le forze politiche a questo. Vi aspettiamo il 27 aprile, grazie. Tommaso, c'è Tommaso? Tommaso non c'è? Quindi do la parola a Martina dei centri sociali del nord-est. Martina? Ecco, vai. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Io vorrei innanzitutto iniziare questo intervento ringraziando il Covesat per chi ha organizzato e ha reso possibile questo corteo e questo pomeriggio insieme. Come centri sociali del nord-est abbiamo partecipato a questo corteo con uno striscione che dice contro la guerra globale investimenti in sanità e welfare. E lo abbiamo fatto perché a livello nazionale e nei nostri territori soprattutto vediamo e viviamo ogni giorno quelli che sono gli effetti dei finanziamenti che vengono tolti alla sanità, alla casa, al welfare e alla tutela delle comunità e della cittadinanza. La questione non è e soprattutto non può essere se i fondi ci sono o non ci sono, ma la questione è dove si sceglie di investire questi fondi dentro quella che è una continua corsa al riarmo a cui stiamo assistendo. Ci sono alcuni dati che mi vengono in aiuto per poter spiegare quello che sto dicendo. Il 2024 è stato l'anno in cui si è raggiunto in questo Paese il tetto massimo di spese militari arrivando a 29 miliardi di euro. E facendo alcuni riferimenti a dati del decennio 2013-2023, gli aumenti delle spese in questo Paese corrispondono a un 23, a un 30% per le spese militari e solamente a un 11% per le spese relative alla sanità e al sistema socio-sanitario. Questo ci dice e ci racconta molto chiaramente che ci sono i soldi per la corsa agli armamenti, ci sono i soldi per i finanziamenti e gli eserciti, ma non ci sono i soldi per la sanità, per la casa pubblica e soprattutto per i diritti di tutte e tutti noi. In questo territorio conosciamo bene questa storia di definanziamento del sistema socio-sanitario perché la storia di questo territorio ci parla di presidi sociassistenziali che vengono chiusi e solo l'anno scorso a Venezia abbiamo lottato insieme al Covesap, insieme a tutta la cittadinanza, per poter permettere che uno dei due presidi sanitari dentro la città storica potesse rimanere aperto e potesse continuare a essere un presidio fondamentale per la tutela delle comunità che vivono all'interno della città storica. Ma mentre tutto questo si realizzava, il sindaco era semplicemente insieme al direttore dell'ULS veneziana a inaugurare l'ennesima clinica privata in pompa magna e con grandi strette di mano, in un processo nazionale, ancora una volta territoriale, che ci parla di una continua e progressiva privatizzazione della sanità, una mercificazione della nostra salute che vende semplicemente a chi può permetterselo qualche diritto e la possibilità di potersi curare, come se questa potesse essere una forma di soluzione invece a una sanità pubblica che viene distrutta e vengono lasciati pochi scarchi per poter ancora investire nuovamente nella guerra globale, nel riarmo e nella speculazione che fa guadagno solo a pochi. E allora la riflessione che siamo qui tantissimi e tantissimi oggi a fare è che tipo di sanità vogliamo, perché vogliamo una salute che sia a 360 gradi, di psicologica, fisica per tutti e tutti, ma soprattutto una salute che sappia e voglia tutelare i territori, perché come individui e come corpi possiamo essere sani solo ed esclusivamente dentro dei territori che sono sani a loro volta. Sappiamo benissimo quello di cui sto parlando, parliamo delle vittime dell'inquinamento, delle vittime delle devastazioni dei territori, non sarò qui a citare i dati delle incidenze tumorali, ma sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. E allora per una tutela della nostra salute e una tutela dei nostri territori torno anch'io, come ha fatto Salvatore in precedenza, a invitarvi a un evento che ci sarà alle 5 e mezza in Sala San Leonardo, perché insieme, come abbiamo fatto in questo corte oggi pomeriggio, troviamoci e difendiamo la nostra salute, difendiamo il nostro territorio, perché la salute non può esistere l'una senza l'altra, quindi ci vediamo insieme al Comitato No Grandi Navi alle 5 e mezza per dire basta agli scavi in questa laguna, alla devastazione di questo territorio e viva la sanità pubblica e viva tutti quelli che sono stati qui oggi. Adesso Gaia per non una di meno. Ciao a tutti e tutto. Queste parole sono per le donne, le soggettività femminilizzate, transgender che sono in questa piazza e che spesso e volentieri non hanno abbastanza voce, non hanno abbastanza possibilità di rivendicare i propri diritti, perché lo sappiamo bene da donne, da persone transgender e persone femminilizzate che siamo le prime ad avere a che fare con il Servizio Sanitario Nazionale. Iniziamo da giovanissime, corpi che subiscono violenza medica, ostetrica e ginecologica all'interno di un sistema sanitario che è misogeno e che troppo spesso non crede alle nostre parole, che non ci crede quando dichiariamo di provare dolore o quando dichiariamo gli effetti collaterali della contraccezione ormonale e le nostre parole vengono ancora meno ascoltate se siamo persone con disabilità o quando ci riviaggiamo al personale per problemi psicologici o psichiatrici. Un sistema sanitario ostile e fallimentare che invisibilizza le patologie tipiche dei nostri corpi e ci costringe a spese folli per trovare anche solo un po' di sollievo dalle nostre condizioni. Patologie invalidanti che non sono affatto rare, l'endometriosi, l'adenomiosi e la vulvodimia, una condizione cronica che colpisce bene una donna su sette che ancora oggi non viene riconosciuta dal sistema sanitario con gravi conseguenze sulla vita delle persone che ne soffrono a partire dal ritardo diagnostico dovuto a un personale sanitario che non è abbastanza preparato. Un sistema sanitario che non ci permette di compiere sceglierte libere e rispettate, come quando decidiamo di interrompere una gravidanza non desiderata e che continua a dare adito a pratiche brutali come l'obbligo dell'ascolto del battito cardiaco fetale. Ricordiamo che in Veneto oltre il 70% dei medici è obiettore. O quando ancora chi decide di interrompere una gravidanza viene trattata come carne da macello provocando con gesti e parole delle ferite che non dovrebbero esserci o al contrario ignorando il dolore che c'è. Gesti disumanizzanti per farci spiare una colpa, la colpa di essere rimasta incinta, spesso in nome di una religione che non dovrebbe trovare spazio all'interno di un sistema sanitario che dovrebbe essere laico. Abbiamo dei corpi che non vengono riconosciuti se non per la loro potenzialità riproduttiva, una grande attenzione intorno alla nostra fertilità per poi abbandonarci nuovamente quando decidiamo di diventare madri. I luoghi che dovrebbero essere di cura sono sempre più spesso luoghi in cui si esercitano abusi e molestie, gli abusi di potere medico perpetrato nei confronti di tutte quelle soggettività considerate inferiori a partire dalle persone transgender per cui la condizione è considerata ancora patologizzante. La maggior parte delle volte questi abusi non vengono nemmeno raccontati perché lo sappiamo già che non ci credereste e che le nostre parole verrebbero sottovalutate. Paradossalmente siamo noi a vergognarci di quello che ci viene fatto. Ma quello che è ancora più grave è quando questi abusi non vengono condannati neanche da chi intorno sa, un'omertà che continua a mietere vittime e che rende anche chi pensa di essere assolto complice. E allora rivendichiamo il diritto alla salute fisica e mentale, come hanno già fatto chi ha parlato prima di me. Rivendichiamo i nostri corpi come corpi sessuali e di piacere. Rivendichiamo il diritto di scegliere davvero e di autodeterminarci. Il diritto di vivere i nostri corpi e di conoscerli, liberi da pratiche misogene e coloniali. Vogliamo l'educazione del personale sanitario che sia veramente rispettosa, una formazione che decostruisca le logiche patriarcali, razziste e disabilizzanti. Vogliamo percorsi di transizione liberi e sicuri e non in mano a un personale sanitario impreparato e inadeguato che continua a perpetrare un approccio patologizzante. Vogliamo una pratica clinica in cui sia la cura e non il profitto o il potere ad essere veramente protagonista. Vogliamo esempi come quello di Padova, l'8 marzo, non una di meno e tantissime compagni e compagno hanno occupato un consultorio che era chiuso ormai da anni per ridonarlo alla città, per ricostruire quelle pratiche che dal basso negli anni 70 hanno portato in questo paese i consultori e i centri antiviolenza che oggi sono sotto attacco e sono dei presidi sanitari e sociali indispensabili ai nostri territori, al nostro paese, per la nostra crescita e per la libertà di tutte e tutti e tutto. Grazie. Silvana a cui vanno i ringraziamenti di Covesap. Silvana è una rappresentante dell'AITESAM, associazione italiana tutela salute mentale. Con l'AITESAM abbiamo lavorato sodo in questi mesi per denunciare tutte le carenze croniche da parte della regione, sia per quanto riguarda il personale che per quanto riguarda il finanziamento. Tutte le sezioni dell'AITESAM del Veneto hanno dato l'adesione a questa manifestazione. Grazie Silvana. Ringrazio Salvatore per quello che ha appena detto e confermo che per noi l'adesione alle manifestazioni dell'AITESAM e della Covesap, la collaborazione col Covesap è preziosa per uscire dall'isolamento. che mi ha preceduto ha parlato della condizione di quasi invisibilità, di isolamento delle persone LGB, QT, eccetera. Per noi utenti dei servizi di salute mentale e familiari di utenti, la condizione di invisibilità e la condizione normale in cui viviamo. Per noi non c'è l'alternativa tra pubblico e privato. Perché, ed è il caso di ricordarlo, a cento anni dalla sua nascita, Franco Basaglia aveva immaginato lei aveva immaginato una cura della salute mentale tutta sul territorio, tutta fondata sulla medicina di comunità. La medicina del territorio, medicina di comunità che può essere solo e soltanto pubblica. Per cui, lo smantellamento della sanità pubblica significa, nei fatti, impossibilità di cura per chi soffre di un disagio psichiatrico, di un disagio mentale e per le loro famiglie. Noi siamo qui oggi, numerosi, vedete anche alla mia destra, e sparsi tutti i soci dell'AIDSAM che è presente in tutte le ULS venete. E da tutti noi deve arrivare, e siamo felici di essere qui davanti a una platea così numerosa, un grido di aiuto, un grido di dolore, una richiesta d'aiuto. Perché i numeri parlano in maniera chiarissima. La Regione Veneto spende per la salute mentale meno del 3% del fondo sanitario totale. Laddove il 5% era quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regione e il 10% era comandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'autonomia richiesta dal Veneto per noi apre un orizzonte ancora più fosco, perché al di là della mancanza di risorse e la visione del disturbo mentale che la Regione Veneto dimostra nei fatti e nelle cifre. Significa una visione che ancora è basata sulla custodia, è ancora basata sul farmaco, è ancora basata sulla contenzione fisica e farmacologica, è ancora basata su minori ricoverati negli SPDC per adulti, dove non c'è alcuna attenzione alla prevenzione. Per noi questa è la dura realtà con cui devono fare fronte le famiglie. Dopodiché appunto, ho già parlato, ho già detto tutto, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Silvano. Volevo dirvi, il Covea Sapa ha aderito alla rete Sanitari per Gaza. Noi in bombardamento soprattutto negli ospedali, colpiscono civili, sanitari, volontari. Per questo motivo abbiamo invitato due persone sanitari per Gaza. Chiamerei la Pedrini. Buongiorno a tutti. Questa manifestazione a difesa della sanità pubblica, contemporaneamente in quasi tutte le regioni italiane, ne precede una europea nei prossimi giorni a Bruxelles. Ma non c'è solo l'Europa ed è occasione per noi, della rete Sanitari per Gaza, di ricordare un'altra sanità pubblica, ancora più devastata della nostra, per cui stiamo tentando di trasferire in Italia feriti non curabili da Gaza. A Gaza c'erano 36 ospedali, ne sono rimasti 10 soltanto, che continuamente subiscono incursioni dell'esercito israeliano alla ricerca di terroristi nascosti, si giustifica il governo israeliano. Durante queste incursioni uccidono sistematicamente e a freddo medici e operatori sanitari e lasciano i pazienti a morire. L'ultimo grande ospedale di Al-Shifa è stato da pochi giorni evacuato e incendiato con 200 cadaveri in putrefazione abbandonati forzatamente dentro le mura dell'edificio. I numeri ufficiali che riguardano la sanità di Gaza sono spaventosi. 300.000 casi di infezioni respiratorie acute, 296.000 sindrome di arroiche, 2.500 malati di cancro, bisognosi di cure urgenti lasciati a se stessi, ferite aperte, colpite e coperte di larve per mancanza di disinfettanti, di garze, oltre che di anestetici per anestesie chirurgiche, per cui gli interventi chirurgici indispensabili salvavita, come per esempio le amputazioni per iniziale gangrena, vengono eseguite senza anestesia, come ai tempi del medioevo. Manca acqua, elettricità, carburante, cibo, farmaci. L'obiettivo è evidente, gli abitanti di Gaza non devono essere curati e le condizioni di vita non devono permettere la loro sopravvivenza. Infatti, 311 sanitari sono stati arrestati senza motivo, con l'accusa di essere terroristi o complici. 458, ripeto, 458 sanitari sono stati uccisi. Ambulanze con feriti a bordo sono sistematicamente colpite da cecchini, tende con feriti schiacciate da carri armati. Ci sono episodi che veramente sembrano racconti di massacri medievali, uno per tutti. Un ortopedico che è 5 giorni che vive in ospedale, dormendo un'ora ogni tanto, è costretto ad amputare un arto a suo figlio senza anestesia. I colleghi lo costringono poi ad andare a casa, dove subito dopo un bombardamento colpisce la sua casa e muore lui e tutta la sua famiglia. Se non contrastiamo, come oggi qui a Mestre e in tutta Italia, le false e rassicuranti narrazioni su Gaza, siamo veramente correi di questa situazione, ma siamo ancora più correi se non ci informiamo, se non ci indigniamo, ma soprattutto se non usiamo tutto quello che possiamo per far pressione su chi ci governa, a tutti i livelli. e qui oggi abbiamo visto tanti nostri rappresentanti politici, che ringrazio veramente, perché vengano usate tutte le strategie possibili per dissuadere Israele a continuare questo massacro. Cosa possiamo fare? Chiedere in tutte le forme possibili il cessato del fuoco immediato. Attuare seriamente da adesso il boicottaggio dei farmaci Teva, che è una multinazionale del farmaco israeliana, che sostiene questo governo finanziariamente, dei prodotti alimentari e agricoli israeliani, scegliendo anche come cittadini italiani delle banche che non siano colluse con Israele. Quindi vi ringrazio e speriamo di essere tutti impegnati in questo impegno umanitario che ci riguarda tutti. Lascio la parola al dottor Salim, medico palestinese, per una testimonianza e per presentare anche la nostra associazione che cosa stiamo facendo. Grazie Antonella. Palestina libera. Palestina libera. Oggi parliamo della sanità pubblica e della sanità privata. Io come medico palestinese, parlo della sanità che non c'è più, dell'ospedale della morte, l'ultimo ospedale al Shafah, vuol dire guarigione. Io vorrei questa guarigione verso le coscienze, questo silenzio assordante dei regimi della comunità internazionale e della comunità islamica alaba, che sono anche complici di più di 30.000 morti, maggior parte i bambini e donne. E anche i colleghi, sono più di 450 morti sanitari, medici, infermieri, paramedici. Cosa aspettiamo? Non basta, non basta lo slogan, bisogna fare qualcosa di più. Noi come rete sanitari Bergasa abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto un progetto importante, abbiamo avuto contatto con la regione Veneto, con gli ospedali di Padova, di Treviso, di Vicenza, Verona, Campo San Piero, per accogliere qualche ferito. Sapete com'è andata a finire? La nostra, il nostro governo ha detto no. Quindi io credo che basta questo per dire bisogna alzare ancora di più la voce, perché noi come sanitari Bergasa vogliamo, chiediamo una cosa semplice, è il cessato, il fuoco, immediato, doraturo. Chiediamo un'apertura di tutti i corrodoi umanitari. Penso che il minimo che possiamo chiedere è il riconoscimento dello Stato di Palestina, perché palestinese hanno il diritto di avere un Stato libero e indipendente. E chiudiamo alla fine la riattivazione dell'ONURA, l'ONURA un ente gestita dall'ONU. C'è un rischio, oltre che di migliaia di lavoratori che possono, cioè lì, in Palestina, ma non solo in Libano, in Siria, perdere il posto di lavoro, ma soprattutto migliaia, migliaia di palestinese che hanno nulla, nulla, già prima del 7 ottobre, che è un momento storico. Figuriamoci adesso. Io credo che Rete Sanitaria Bergasa, anche questo, chiede una sensibilizzazione, una diffusione di informazioni per dire che a casa c'è un genocidio da parte di un criminale, uno solo. E mi stupisce che l'amministrazione Biden e la comunità europea non può fare nulla. Mi stupisce. Quindi noi sanitari qui oggi abbiamo il compito e siamo anche professionisti della cultura umana, etica, di alzare la voce per dire basta questo genocidio, basta questo criminale con fronte di bambini. Non è la guerra, questa è una guerra contro Abbas, ma guerra contro il popolo palestinese. Io credo che noi oggi vogliamo alzare la voce per dire basta perché vogliamo davvero la pace, una pace giusta, una pace davvero giusta in quella regione perché senza pace davvero il mondo, quello che adesso viviamo, rischiamo essere tutti dentro. E questo è l'augurio, questo, una pace, la pace giusta in Palestina, in tutto il mondo. Grazie. Grazie Salim, siamo alla fine. Un altro po' di pazienza. Durante il corteo abbiamo detto fare salute significa prima di tutto fare prevenzione. Quindi non solo garantire a tutti e tutte esami e visite tempistiche ed efficienti, ma anche garantire la possibilità di vivere, lavorare, studiare in un ambiente sano e in luoghi sicuri. E sicuramente gli inceneritori vanno contro questo aspetto. Chiamerei subito per l'intervento Sebastiano. Ciao a tutti e tutte. Io cerco di rubarvi pochissimo tempo perché il mio intervento c'entra e cerca di approfondire quello che Salvatore ha appena ribadito, che tante voci ho sentito gridare in questa piazza. Parlare di salute, parlare di prevenzione vuol dire anche inevitabilmente parlare dei territori su cui viviamo. Ringrazio in primis la Covesa per le tante realtà che hanno partecipato e organizzato a questa manifestazione. Siamo stati felici di poter dare una mano, siamo stati felici di poter contribuire alla costruzione di questa manifestazione che ha raccolto tante voci diverse che hanno gridato qualcosa di estremamente semplice. Sembra quasi ridicolo doversi trovare in piazza per dire che un servizio fondamentale come la salute pubblica, un diritto fondamentale come la sanità non debba essere toccato da interessi privati, non debba essere completamente sradicato alla radice da interessi economici che non fanno mai il bene delle comunità, non fanno mai il bene dei cittadini e cittadine ma fanno sempre solo il bene di chi quei soldi vuole intascarseli. Partire da questo per noi vuol dire partire dai territori, vuol dire partire dal fatto che viviamo su uno dei territori più inquinato a livello europeo, la pianura padana, viviamo anche in Veneto in cui, come è stato detto da tanti e tanti anche in questo corteo, c'è un'emergenza evidente che è un'emergenza FAS, un'emergenza causata da sversamenti di decenni nelle faldi equifere del Vicentino e della bassa padovana ma che adesso investe tutto il territorio del Veneto perché i PIFAS sono sostanze che non si distruggono e che continuano invece a diffondersi giorno dopo giorno, anno dopo anno e adesso fanno parte purtroppo della vita di tutti e tutte noi. Pensiamo al nostro territorio quando parliamo di salute pubblica, di sanità perché siamo anche il sito di interesse nazionale di Porto Marghera dove lo studio Sentieri a inizio dell'anno scorso ha testimoniato come abbiamo il 20% in più di probabilità di morire di tumori e leucemie vivendo su questo territorio, il 20% in più stiamo parlando di numeri assurdi per la vita e la salute di ognuno e ognuna di noi. A partire da questo la priorità dovrebbe essere quella di bonificare i territori già distrutti purtroppo da decenni di inquinamento e la priorità dovrebbe essere quella di impedire categoricamente la costruzione di nuovi impianti inquinanti, l'approvazione di nuove grandi opere, l'approvazione di nuovi progetti che anche qua mai hanno a che fare col bene delle comunità, mai hanno a che fare col bene dei territori. E nonostante questo ci siamo ritrovati da cinque anni a questa parte con la proposta da parte di Veritas, lente locale per i rifiuti, della costruzione di trelli, della costruzione di due nuove linee di incenerimento, due nuove linee che volevano bruciare ulteriori rifiuti, cosa di cui non abbiamo bisogno, ma che sotto i rifiuti di nascosto volevano approfittarsi di un business molto più, che fa guadagnare molto di più, il business dei fanghi contaminati da Pifas appunto, un business che implica lo smaltimento di fanghi contaminati, fanghi tossici, fanghi che arrivano dai depuratori civili, i cosiddetti civili di tutta la regione. Questo era il business che voleva prendere in mano Veritas, questo era il business su cui volevano per l'ennesima volta guadagnare sulla nostra vita e la nostra salute. Da cinque anni a questa parte le due nuove linee dell'inceneritore di Veritas non stanno venendo costruite, grazie a tanti e tante, a migliaia di persone che si sono attivate, grazie a ingegneri, grazie a medici, grazie a tutte quelle persone che stanno portando avanti questa battaglia e mettendo le proprie competenze a disposizione prima di tutto dell'informazione che viene negata costantemente a cittadini e cittadine. Dopo anni in cui Veritas è stata bloccata, si è presentata a Eni dopo aver fatto i suoi giri per il mondo a distruggere, a inquinare, facendo finta di essere una multinazionale green, qualsiasi cosa voglia dire, è tornata qua a Porto Marghera presentando un inceneritore che non si nasconde neanche dietro il dito dei rifiuti ma che dice direttamente di voler bruciare fanghi contaminati. Beh, siamo arrivati al punto in questo momento perché Eni ne abbiamo parlato spesso in tante situazioni, anche come veniva detto prima nelle manifestazioni a favore del popolo palestinese perché Eni ha le mani sporche di sangue del ginecidio in corso, l'abbiamo parlato nelle manifestazioni per distruggere il sistema che sta continuando a portare avanti la crisi climatica e di Eni parliamo oggi per difendere il nostro territorio perché a fine giugno è stata convocata la conferenza dei servizi, una conferenza che vede tante istituzioni riunite che deve decidere l'approvazione di questo nuovo progetto, di questo nuovo inceneritore. Beh, il primo giugno ci sarà qua a Mestre una manifestazione, il primo grande corteo lanciato dal coordinamento contro gli inceneritori a Porto Marghera a cui cerchiamo di essere tanti e tante perché da quel corteo, costruendolo insieme, partecipando insieme, si parlerà proprio di salute e territorio, si parlerà di sanità, si parlerà finalmente del fatto che le istituzioni dovrebbero prendere delle decisioni a partire da quello che è il bene della comunità e non a partire da quelli che sono i profitti economici che troppo spesso vediamo perché le stesse istituzioni che tagliano sulla sanità, le stesse istituzioni che mal destinano i finanziamenti alla sanità sono le stesse istituzioni che approvano questi progetti per cui cerchiamo e speriamo di vedervi insieme in questo percorso che ci porterà da qua al primo giugno a difendere il nostro territorio per partire dagli inceneritori e riuscire ad attaccare un modello che sta distruggendo tutta la gronda lagonare, questo territorio e non solo ma tutto il mondo, lo stesso modello che ci sta portando di fronte a un conflitto internazionale, lo stesso modello che mette sempre e solo i soldi e il profitto di fronte alla vita di tutti e tutte noi. Vediamoci in piazza, facciamo sì che questa giornata non rimanga dimenticata ma continui nelle tante mobilitazioni che muovono i territori, facciamo sì che territorio e salute tornino a essere le nostre priorità. Grazie. Siamo all'ultimo intervento, Tommaso dell'Associazione Familiari delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Tommaso. Grazie Salvatore, grazie a tutti. C'è già un appuntamento allora, visto quello che ha detto adesso Sebastiano, di non abbandonare e di non cedere l'impegno che abbiamo preso. È il 20 aprile, quindi fra poco più di due settimane, al Teatro Colbe, qui a Mestre, c'è un'assemblea regionale di tutti i comitati familiari che hanno ospiti nelle RSA, cioè nelle case di riposo cosiddette. C'è un'emergenza nell'emergenza, quando si parla del mondo degli anziani e della non autosufficienza che nessuna famiglia, nessuno di noi che è qui in piazza immagino non sia toccato, o direttamente o indirettamente, tra i parenti, tra i propri familiari. Aggiungo che non riguarda solo gli anziani, perché abbiamo in RSA tante persone non autosufficienti, anche danneggiate da errori medici, che sono giovani e richiedono un'assistenza vita naturale durante. Da questo punto di vista il convegno del 20 aprile farà chiaro sui diritti che abbiamo, prima ancora che vengano insidiati da queste nuove manovre e queste leggi, che sono semi sconosciuti. Stiamo adesso sollevando un velo sul diritto alla gratuità per tutte quelle che sono le patologie croniche degenerative dell'anziano. Tutte le famiglie si stanno svenando per poter pagare delle rette che non hanno più limiti agli aumenti e superano i 2-3 mila euro se uno non è in convenzione. La regione ha bloccato le convenzioni, noi stiamo operando, parlo anche come Codacons che si è impegnato in questa battaglia, sono un referente perché ho io stesso dei familiari in bisogno, però ci siamo organizzati. Si sta moltiplicando la solidarietà per tutte le case di riposo di Venezia, Mestre, Treviso, siamo in contatto con Vicenza, con tutte le regioni. Questo appuntamento riguarda tutto il territorio veneto perché è in regione che dobbiamo sollecitare finanziamenti e sblocco delle impegnative. Però c'è un tema fondamentale che non è noto, che è quello della riduzione delle rette secondo le disponibilità economiche dell'anziano, non dei parenti o di chi può tirar fuori i soldi, perché ci sono delle regole molto precise che sono sottaciute anche dagli assistenti sociali e dalle amministrazioni delle case di riposo. Vanno impugnate, va fatto il calcolo corretto e pagato quello che uno può pagare, non venire abbandonati se uno non ne è in grado. Ricordo anche l'esenzione, che pochi lo sanno, ma tutta la giurisprudenza ormai dà ragione che l'anziano o la persona che patisce una malattia cronica o degenerativa e che ha bisogno delle cure, a prescindere dell'ospitalità, è un assistito come lo siamo quando andiamo in ospedale. La spesa è completamente coperta dal servizio sanitario nazionale. Qui non si tratta di combattere la legge che sta uscendo, senz'altro sì, perché cerca di portare al sociale quello che è un diritto sanitario, va molto chiarito. Però qui si tratta anche di usare a vantaggio di chi ne ha diritto le regole, le leggi che sono sconosciute. Quindi venite il 20 aprile, chi è interessato e su questo tema è molto scottante per gli anziani. Teatro Colbe alle 3 del pomeriggio, come oggi, è un sabato pomeriggio. Aspettiamo tutti quelli che vogliono approfondimenti e informazioni su questo. Grazie a tutti. Allora siamo alla fine, due cose veloci. C'è un banchetto per le firme di appoggio alla lista Pace, Terra e Dignità. Chi vuole firmare lo può fare. Per ultimo darei la parola ad un altro medico di medicina generale palestinese che opera a Iesolo. Prego, veloce. Buonasera a tutti, sono dottor Nanna Ahmad, un medico di base a Iesolo. Io ringrazio tutti i partecipanti per questo ruolo importantissimo, sia per la sanità, sia per la pace in Palestina. La pace in Palestina, sappiamo tutti ormai che è molto importante, che sta mettendo in ripetario la pace internazionale. Noi siamo un gruppo di attivisti. Ogni sabato ci troviamo qua per fare un presidio per la pace contro il genocidio dello Stato Israele e contro Gaza e noi ci affidiamo alla coscienza ancora viva di questa popolazione degli italiani per fare sempre più pressione sul loro governo in modo che partecipi attivamente non nel fare guerra, non nel fare distruzione, ma nel fare pressione sullo Stato Israele per cessare questo genocidio. Perché non occorre appartenere a un determinato partito per essere con la pace. Siamo tutti con la pace, siamo tutti contro il genocidio dello Stato Israele. Vi ricordo solo che in questo momento che i primi alliati dello Stato Israele, che sono gli Stati Uniti d'America, stanno facendo una marcia in più. Invece il sindaco di Venezia continua a mettere la bandiera israeliana, rovinando, inquinando in questo modo l'immagine bella di questa città. Venezia è conosciuta in tutto il mondo, tutto il mondo ama Venezia per questo è una rovina, un inquinamento della città di Venezia che viene messa questa bandiera israeliana a sventolare sul municipio di Venezia. Per questo facciamo appello alla coscienza bella di tutti che partecipiamo tutti alla creazione della pace. Grazie per tutti. Siamo arrivati alla fine. Cosa farà il Covesap nei prossimi giorni? Per noi la mobilitazione, il conflitto è l'elemento base per le piattaforme. Abbiamo attivato a Padova un forum emergenza sanità, dove possono partecipare tutti, organismi collettivi, singole persone. Abbiamo individuato tre temi emergenziali. Il primo, le liste di attesa. Partiranno subito dopo questa manifestazione l'attivazione dei sportelli diritti alle cure, dove ospitiamo i cittadini a cui viene prolungato il tempo secondo la prescrizione medica della ricetta. Ricordiamo a tutti che ci tutelano le norme, le leggi. La prima fra tutte, la legge 124 del 1998, articolo 3. Secondo tema. sapete che il piano sociosanitario regionale è terminato il 31 dicembre scorso. Noi abbiamo tante e tante cose da criticare rispetto al fallimento di questo strumento programmatorio. C'è un altro aspetto che riguarda il PNRR. Vi dicevo all'inizio, si stanno sciacquando la bocca sulle posse della prima pietra. Tanti soldi, tanti, tanti, che il PNRR ha dato per la missione numero 6, che sono soldi non regalati, ma sono soldi dove il 70% è a debito pubblico, dove pagheranno i nostri figli. Per ultimo, il tema della non autosufficienza, come diceva Tommaso, è basilare. Ormai tutti i dati ci dicono che c'è un problema demografico, sociale, che va affrontato. E purtroppo non vediamo una capacità politica di poter fare una grande riforma per la tutela e i diritti degli anziani. Vorrei ringraziare coloro che ci hanno permesso di avere queste attrezzature, il Camion, quindi il Centro Sociale della Rivolta, il Centro Sociale del Morion. Un ringraziamento a voi tutti e abbiamo anche notato che c'è stata anche un'ampia partecipazione per quanto riguarda contributi finanziari. Buon lavoro e alla lotta! Grazie! 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 Grazie!